Buonasera a tutti, benvenuti alla quinta puntata della nostra sanità. Il nostro servizio sanitario compie 40 anni, sono tanti, sono pochi, cosa è cambiato? Perlomeno 40 anni non sono tanti, ma purtroppo è cambiato il mondo che sta intorno al nostro servizio sanitario e sono cambiate tante cose. E domani si festeggia proprio questo qui a Roma, un servizio sanitario che poi in carenza di sofferenza dei medici perché mancano e cominciano a mancare i sanitari, perché non si è fatta un'adeguata programmazione nel tempo e quindi per questo vengono stanziati più soldi o perlomeno vengono stanziati gli stessi soldi per avere qualcosa di meno. Andremo a vedere, anche perché in alcuni ospedali d'Italia purtroppo tra bagarozzi e formiche e infezioni nosocomiali la situazione non è poi così felice. Anche perché poi parlando del servizio sanitario nazionale e vedendo che 4 milioni di italiani purtroppo sono costretti a pagarsi le cure di propria tasca o perlomeno rinunciano alle cure proprio perché non hanno i soldi, a questo punto dobbiamo vedere che il nostro servizio sanitario, bello che è nato 40 anni fa per tutelare tutti, è un fiore all'occhiello della nostra nazione e incomincia a dare i primi colpi. oltretutto tutto questo lo dobbiamo inquadrare poi in una situazione politica che è particolare perché c'è una dialettica che non è più quella reale delle idee ma bensì una dialettica purtroppo che mette in primo piano il litigio e l'insulto. Vedremo questo in questa puntata della nostra sanità. Sigla. Grazie. 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 del paese lo stima e lo considera come un amico. Egli è l'anello di congiunzione fra i laboratori di ricerche e i suoi malati. Era un filmato molto antico di un medico condotto molto antico quando la medicina era tutt'altra cosa, era le soglie della nascita del servizio. Sanitario e azionale, dottor Sabotini, buonasera. Buonasera a tutti, bentornati. Non abbiamo detto, anzi ci scusiamo, che la settimana scorsa per un blackout improvviso abbiamo dovuto interrompere a metà la nostra trasmissione, stasera riprendiamo, speriamo che l'energia elettrica non ci... Che ci aiuti il gestore. Che ci aiuti il gestore, scusateci. Dottor Buono, contro le due Sicilie, buonasera. Buonasera a tutti, bellissima serata, ad essere la vigilia dei 40 anni del Servizio Sanitario Nazionale che considero veramente più ancora con Fiore, perché la comunità di Adema su una corona regale mi fa molto molto piacere perché è un vanto per tutti. È un vanto per noi, un vanto per la nostra nazione e per l'Italia. Quindi domani a Via del Corsa, a Hotel Plaza, ci sarà un convegno, un importantissimo convegno che è organizzato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Tontoiati, a Fronceo, dove si parlerà, poi ci sono tavole rotonde, ospiti, illustri, politici, che si alterneranno proprio in questa giornata, che va dalle 10 di domani mattina fino al domani pomeriggio, verso intorno alle 17. Se volessimo fare una sintesi estrema di quello che era prima, perché molti non sono, non hanno la nostra età, forse non se lo possono ricordare, magari erano piccolissimi, prima c'erano tante mutue, che probabilmente ogni singola muta aveva più soldi di quanti ce ne siano adesso, però il servizio era dato un po' a macchia di lopardo, le mutue più ricche e più facoltose davano più assistenza rispetto a quelle magari più popolate. E poi le mutue erano in emanazione del periodo fascista, perché c'era l'Inam, c'era l'Enfodep, c'era gente dell'aria, c'era la Cassa dei Marittimi, c'erano tantissime. La grossissima e grande novità del Servizio Sanitazione è stata unificare tutti sotto lo stesso ombrellone, quindi qualcuno ci è stato coperto bene, qualcuno ci è stato un po' stretto, magari rispetto a quello che aveva. Però alla fine, all'inizio funzionava, inizialmente funzionava tantissimo, perché inizialmente dava tutto a tutti, io mi ricordo che non era un servizio, era una moto assistenziale, noi davamo, si dava il cotone, si davano delle prestazioni gratuitamente in farmacia, che oggi è semplicemente impensabile richiedere. Poi, chiaramente, anche un po' troppo, se vogliamo. Anche l'aumento dell'età e quindi continuare a curare della gente per tarda età, prima, rispetto a 40 anni fa, 50 anni fa, la vita media è aumentata sicuramente ai 10-15 anni, e quindi sono 10-15 anni che la gente viene curata sulle spalle di tutti quanti, e quindi sicuramente fa un po' d'acqua, però io penso, come dicevate voi prima, che è sicuramente stato un grossissimo passo avanti, che ancora ci tiene avanti rispetto a tante altre nazioni, perché se voi vedete gli Stati Uniti d'America hanno cambiato tanto, adesso l'Obamacare, prima c'era Obama, adesso vogliono buttare via, vogliono ricambiare, l'Inghilterra decidono di somigliarci, poi ci copiano, poi ritornano indietro, alla fine noi tutto sommato stiamo ancora meglio, quindi non ce la mettiamo sempre. No, perché poi ho ottenuto il nostro servizio sanitario nazionale, è uno dei più apprezzati nel mondo, diciamo con tutti i pregi e i difetti che c'ha, poi è logico nel tempo, sono incominciate le restrizioni, incominciate le difficoltà e tutto quanto, io volevo ricordare, poi lo ricorderemo anche durante la nostra trasmissione, che domani c'è questo evento, grosso evento a Via del Corso, a Roma, e noi trasmetteremo la diretta integrale di tutto quanto il convegno, abbiamo chiesto alla Federazione Nazionale degli Ordieri Medici, io infatti vi ringrazio per questo, se potevamo trasmettere, ci hanno dato tutto il supporto logistico, quindi domani l'appuntamento è qui, sul film Girazio TV, per chi vuole seguire, alle 10, cominciare il convegno, ma il collegamento sarà proprio alle 10, e in diretta trasmetteremo tutto quanto il convegno della Franceo, da Via del Corso, poi però molte di queste cose sono andate un po' depaperandosi, a causa della carenza di fondi, di fondi, poi c'era troppo spreco prima o c'era poco? no, è successo semplicemente che le vecchie mutue facevano afferenza a quello che era il pensiero di Bismarck, era il modello Bismarck, cioè la sanità deve tutelare chi produce, attraverso finanziamenti che vengono dai contributi che queste categorie versano, e quindi di qui il discorso mutua più ricca, mutua più povera, ovviamente la mutua più ricca dava di più, successivamente il modello seguito, il modello beverage, che tuttora è quello che abbiamo, che prevede che vadano tutelati tutti in modo del tutto indipendente da quello che è il loro livello produttivo, quindi tutelare il cittadino in quanto tale, non il lavoratore che è anche il cittadino, comporta una spesa, una spesa maggiore, soprattutto a carica della fiscalità generale, ma la fiscalità generale come si forma? Si forma attraverso le tasse che ci diciamo, noi sappiamo che abbiamo intere manobre economiche di evasione fiscale, L'esperazione principale detto sommato? Sicuramente c'è stato lo spreco, però ricordiamoci che se noi abbiamo questo iceberg sommerso di evasione fiscale, dovrebbe essere quella che finanzia, invece non abbiamo questa evasione contributiva, non l'avevamo prima, perché erano categorie produttive, quindi con contributi ben determinabili alla fonte, e quindi ecco che qualcuno diceva come stavamo meglio prima, vedendo il suo piccolo orticello. Però come dicevo poco fa, l'ispirazione principale di questo nuovo sistema è stata la creazione dei cosiddetti LEA, dei livelli essenziali di assistenza, cioè stabilire, e ogni tanto cambiano anche questi, quelli che sono i gradini minimi al di sotto dei quali la sanità pubblica non può andare, e questo secondo me è un grossissimo successo, è un po' se voi vi ricordate il paniere, quando c'era la scala mobile tanti anni fa, che adesso non c'è più, perché adesso c'è una moneta unica europea, e quindi c'era il serpentone monetario, però alla fine c'erano dei cibi che stavano dentro il paniere, che non potevano essere, come dire, toccati, perché il pane, l'acqua, adesso non mi ricordo più che cosa ci fosse, dovevano essere garantiti tutti, e quindi mutati e smutanti, si e lea vogliono fare questo, garantire quelle prestazioni minime al di sotto delle quali il sistema sanitario. Questo perché poi, allora ricordiamoci sempre che il servizio sanitario nazionale era nazionale, adesso è diventato servizio sanitario regionale, per il contempo quando era nazionale, io mi ricordo che c'era lo Stato centrale, al centro, c'era l'Indistratto della Salute che disponeva tutto ciò che c'era da disporre nella sanità in tutta la penisola, dopo c'è stato il frazionamento, ora il frazionamento bisogna vedere quello che ha portato, adesso loro ti dico, io ti do una parte e adesso te lo produci da solo, adesso sono le ragioni che devono autofinanciarsi, per superire il giorno necessità, ma prima invece la ragione faceva un po' quello che voleva, dopo c'era da ripianare l'eccesso di spese, c'era la pazza per ora che pagava, c'era la pazza per ora che pagava, c'era la pazza per ora che pagava, un richiato a alte poste, avevamo in Emilia Romagna, gli autobus che costavano zero lire in determinate fasce orarie, chiaramente questo non era congruo con quelle che erano le spese degli autisti, all'epoca c'erano i controllori del carburante, per cui alla fine veniva fuori un bel pacchetto di deficit, si bussava allo Stato centrale e dava questo nel sociale, per il sanitario ancora di più, quindi considerato questo, e considerato poi di sprechi, l'avvento del consumismo sanitario, perché esiste il consumismo sanitario, ha portato al fatto che mantenere quest'idea, che prima erano solo una base di partenza, per poi andare in medius, nelle singole regioni, è diventata una sorta di linea del piave. A dire il vero, poi l'ultima osservazione che faccio, è che mentre prima anche la visita, semplicemente la prestazione si pagava, perché c'erano le notue, quindi ogni paziente, ogni volta che andava dal medico, per farsi una qualunque cosa, una volta andavano molto le iniezioni intramuscolari, le endovenose, c'era una prestazione, il medico veniva pagato a prestazioni, per cui la gente stava attenta, a non andare dal medico in maniera esagerata, poi questa cosa comunque è stata cambiata, adesso il paziente può anche andare dal medico, dieci volte al giorno, non paga nulla, e quindi questa forse è un po' una stortura al contrario, ci vorrebbe una via di mezzo, come sempre. Comunque stanno alcune cose che dal tempo non c'erano, che adesso ci sono, diciamo che magari l'assistenza territoriale, era un pochettino più carente, perché come dicevano, sì, era più carente, c'erano meno risorse, forse però consentitemi anche di dire che non c'era il fenomeno della medicina difensiva, perché il medico, giusto o sbagliato che fosse, era tenuto in una considerazione sociale che riecheggiava in tanti modi di dire popolari, ad esempio te l'ha ordinato il medico, oggi come oggi, il medico a chi ordina, e che cosa ordina, il medico consiglia, il medico propone, anzi spesso il volontiere lo deve fare dilungandosi molto, perché se no qualcuno, se le cose non vanno bene, gli dice, sempre che il dottor Google sia d'accordo, e poi c'è il dottor Google, le autorità garanti della privacy, di quant'altro, perché è chiaro che adesso, ci muoviamo tra scilla e caridi, e muoversi, navigare in un mare del genere, significa, dover necessariamente, allentare i cordoni della borsa, per quelle che sono cose, cose delle volte ridondanti, delle volte inutili, che hanno soltanto lo scopo di dire, io te l'ho fatto fare, e domani non si dica questo, e questo, scusatemi se torno sul mio vecchio mantra, ma è una delle origini degli sprechi, per cui poi alla fine, si va a arretrare su idea, che invece, sono la quintessenza, della civiltà nel nostro paese, e il pieno rispetto, dell'articolo 32 della nostra questione. Allora vedete che in 40 anni, questo servizio sanitario, è passato poco tempo, ma in realtà, dei fatti è cambiato il mondo intorno, diciamolo, allora vi ricordo sempre, e domani, alle ore 10, domani, per chi ci ascolta in diretta, ovviamente è il 15 novembre, domani, però in realtà, dei fatti, chi ci ascolta, magari, fin dal fine settimana, domani, con il 15 novembre, alle 10, domani mattina, in diretta streaming, per chi vuole, da tutta Italia, vedere il convegno, dei 40 anni, del servizio sanitario nazionale, oltretutto, qui c'è anche, un numero di WhatsApp, che verrà dato, un numero di WhatsApp, che verrà dato domani, e anche un hashtag, 40 anni SSN, scritto maiuscolo, con cui parlare, anche attraverso, Twitter, benissimo, allora, e noi la trasmetteremo in diretta, oppure, chiedo scusa, per chi, volesse andare, l'appuntamento, alle ore 10, a Grandel Plaza, via del Corso, 126, benissimo, allora, abbiamo la, adesso parleremo di influenza, no? E siccome abbiamo, l'influenza, alle porte, come non fare propaganda, o fare un piccolo spot, sui vaccini? Andiamo a vedere, e poi torniamo in studio, con l'influ.net. Durante la crescita dei nostri figli, cerchiamo sempre, di proteggerli, con tanti piccoli gesti. Fai la scelta giusta. Allora, 335-386-082, per parlare adesso con noi, per mandare sms, anche whatsapp, per chiacchierare, per dirci, farci domande, per interagire, con il nostro studio, allora, l'influenza, allora, sì, abbiamo, abbiamo, la seconda, diciamo così, la seconda settimana di valutazione, dell'Istituto Superiore di Sanità, la quale ci fa capire, com'è l'andamento, rispetto a quest'anno, e rispetto agli anni precedenti. Quindi, se vediamo la prima, possiamo vedere, ecco, adesso la vediamo, no, possiamo vedere, che la curva, mentre la settimana scorsa, c'era un pizzichino più alta, rispetto a quella dell'anno scorso, adesso c'era abbastanza. E quella piccolina, diciamo, la piccolina, la curvona, è quella del corso anno, la parte a sinistra, dove i numeri che vedete, 42, 43 e 44, sono le settimane dell'anno, quella tratteggiata, e quella dell'anno scorso, in pratica, la stiamo copiando. Possiamo dire, che perlomeno, alle nostre latitudini, ancora c'è caldo, anche se, dalla settimana prossima, sembra che arriverà il freddo, in molti stabili, non è stato neanche acceso, gli scaldamenti, essendo il 14 novembre, per la nostra latitudine, è un po' strano, però. Per Roma, magari, per Roma, per Roma, restare in quei romani, sì. Quelli dove non hanno accesso, comunque, possiamo dire, da quello che vediamo, non so se, abbiamo anche, che ci segue da sopra le montagne, che lì, comincia a accendere di scaldamento, e fa freddo, nelle montagne del nord, nelle Alpi, e quindi, lì probabilmente, arriveranno prima, non dico di no, però anche lì, la vaccinazione, io sono convinto, che sia iniziata prima di noi, perché noi stiamo vaccinando adesso, in questi giorni, eh sì, che ci sono stati dei ritardi, per questo. Ritardi che, diciamo, la consegna dei vaccini, sta normalizzando, ad esempio, nella mia zona, ne hanno dati la metà, del fabbisogno totale, però comunque, li hanno dati, devo dire, perlomeno nella mia, personale esperienza, che in questi tre giorni, in cui ho vaccinato, ho avuto un assalto, come raramente è accaduto, negli anni scorsi, quindi questo mi fa pensare, che la campagna vada bene, d'altro canto, devo pur dire, che coloro i quali, erano indecisi, gli anni scorsi, quest'anno, sono assolutamente decisi, a non farlo, quindi diciamo, si sono forse radicalizzate, le posizioni, il vaccino sì, con grande entusiasmo, gente che mi ha telefonato, sento otto volte, vaccino no, no assolutamente. Ma io ho un'altra teoria, ma io ho un'altra teoria, l'influenza ha steso le persone a letto, in maniera importante, sì, ma la curva era uguale a questa, eh sì, era uguale a questa, ma era costo proprio il virus, gente con la febbra a 40 a letto, che vedremo, vedremo, che stanno probabilmente la corsa a cancina, anche un stimolo, un punto, che è stato usato, che non ci siano incidenti di percorso, e perché noto una certa ripresa, mi fa piacere vederla, basta che non ci sia, che non si mettino qualcosa, che i famosi gruppi vaccinali, non se ne scano con qualche notizia, allarmistica, e tanto come dicevano i francesi, bovardet, bovardet, caccio, ecco no, questo bisogna dire una cosa, l'ha fatto ricordare, tanto sperare di muoverci, di fare più vaccini possibili, nel più breve tempo possibile, proprio per evitare discorsi di questo genere, io devo dire che i tre giorni, i tre giorni ne ho fatto in centinaio, quindi sono mali, rispetto a dieci anni fa, mi ha fatto trovare quasi a target, ha fatto pensare una cosa, io oggi ho trovato un articolo, io dico attenzione, quando scrivete sui social, dovete fare attenzione agli articoli, che scrivete o che riportate, oggi ho trovato un articolo, che sono stati liberati dei vaccini, eccetera, era un articolo del 2014, quando tanto tempo fa successe, un disastro dal punto di vista, evitiamo di postare articoli, che poi magari senza guardare la data, perché se poi non guardiamo realmente la data dell'articolo, corriamo di postare qualcosa, questa è la malattia di quelli che fanno like, mi piace, e leggono solo le prime tre righe, poi le altre 600 non le leggono, io direi di mettere la data dentro al titolo, c'è anche una seconda slide, c'è anche la seconda slide, la seconda slide, questa invece è l'incidenza in base all'età, e comunque ce n'è anche una terza, perché come voi ben sapete, il Ministero cerca sempre di fare, questa invece su tutte le influenze, quella precedente fa le differenze di età, però ancora non c'è nessuna differenza, né tra i piccoli, perché loro dividono sempre da pediatriche, adolescenti, adulti e anziani, quest'anno come vedete, c'è stato quel piccolissimo picco, dei 45 anni, ma adesso ancora non c'è, per cui possiamo consigliare, continuate a vaccinarvi, qualcuno mi chiede, cosa fare con i pazienti, che assolutamente non vogliono vaccinarsi, diciamo che la buona regola dice, che un piccolo tentativo, un'insistenza bisogna farla, certamente se poi la persona, non vuole assolutamente vaccinarsi, bisogna in qualche modo desistere, perché non è un obiettivo, ritrovarci alla prima occasione. Rispettare sicuramente, però trovare la strategia idonea per non mollare il contatto, e allora la radicalizzazione urlata non va bene da nessuna parte, la disponibilità a rispettare il punto di vista altrui, ma fare presente che ci sono altre fonti dove magari andare a vedere qual è la realtà delle cose, e soprattutto mette nel risalto quali sono le strade alternative, sia per informare, sia per far capire che sono lunghe, sono laboriose, sono complesse, non sono sicure. Dopodiché è chiaro che se ci si imbatte in una persona, tra virgolette, invasato, addirittura attivista, per discorsi del genere, ci si rispetta, si dice se le vuole ritarlare, sono disposto a stati assoluti. L'importante è non farli considerare dei paria, cioè degli esclusi alla società, perché poi alla fine questa cosa potenzia il loro isolazionismo, invece dire la pensi diversamente se tu cambi idea, sono qui però, insomma non condannarli in maniera esagerata, penso che l'accoglienza sia una delle prerogative del nostro lavoro. L'Istituto Superiore della Sanità, Walter Ricciardi, nell'interrogazione che è stata fatta qualche tempo fa, no, l'interrogazione che è stata fatta una relazione governativa, proprio sui vaccini, ha detto che coloro che hanno questo problema sono il 3% con chi non vuole i resistenti proprio alle vaccinazioni, sono un 3%, un misero 3% e poi è quello che grida di più, perché grida molto, in realtà poi è una percezione minima, perché la maggior parte degli italiani sono consci e ben consci di quello che stanno facendo e di quello che debbono fare. Abbiamo visto, parlando proprio di l'Istituto Superiore della Sanità e di statistiche, proprio perché le statistiche sono fondamentali, in questo caso, anche nell'influenza, qualche giorno fa, sempre in una relazione governativa, l'Istat ha dato dei dati e ha dato una notizia, un'informazione, che 4 milioni di italiani non riescono ad accedere alle cure oppure non si curano abbastanza, perché purtroppo non hanno più soldi. La crisi. La crisi è fatta questa. Però questa qui non è una cosa di adesso, è una cosa di qualche tempo fa, di qualche anno fa, perché anche qualche anno fa, si stava dicendo la stessa cosa, si era lanciato l'allarme, però purtroppo in tutti questi anni nessuno ha fatto niente. Abbiamo avuto un servizio, vediamo, perché è un servizio di quattro anni fa, Quattro anni e mezzo fa circa. Quattro anni e mezzo fa circa e vediamo che cosa dice, perché fondamentalmente penso che le cose non siano nemmeno ancora non cambiate. Vediamo. La crisi fa male anche alla salute, come se non bastassero le preoccupazioni per arrivare a fine mese o per la mancanza di un lavoro. La drammatica situazione economica modifica anche le consuetudini sanitarie degli italiani. Almeno è quello che emerge da un rapporto dell'Istat che evidenzia come un italiano su dieci dichiara di aver rinunciato ad una prestazione medica pur avendone bisogno. Oltre sei milioni di persone dicono di no ad accertamenti e visite specialistiche, escluse quelle odontoiatriche, a interventi chirurgici e all'acquisto di farmaci. I motivi delle rinunce sono i più svariati, ma il più ricorrente resta quello della crisi. Così, pur di risparmiare, gli italiani riducono o addirittura fanno a meno delle prestazioni sanitarie. Le donne rinunciano più degli uomini, soprattutto a sud e nelle isole. Ma alla vigilia di Natale c'è spazio anche per una buona notizia. Aumenta il numero delle persone che dichiara di star bene e di non aver problemi di salute. Così è almeno per due italiani su tre. Saluto anche tutti coloro che ci stanno ascoltando attraverso Facebook, attraverso il social di Social, ci stanno seguendo e ci mandano messaggi di conforto quando noi che stiamo qui a parlare di sanità e anche domani verranno presentati altri dati dell'Istat, purtroppo i dati del nostro servizio sanitario nazionale. Mi chiedo, nessuno in questi anni ha fatto niente. Mi chiedo, che cosa serve pubblicare dei dati se, come giustamente accennava l'epoca fa, non si fa niente. Se adesso sono quattro milioni di italiani, prima era un italiano su dieci, adesso sono quattro milioni, ma tutto sommato non mi pare che ci sia una grossa differenza. Allora, o noi siamo una nazione che è perennemente in crisi, e questo è triste doverlo ammettere, oppure i dati sono, diciamo così, aggiustati, vogliamo dire così, alla bisogna. Perché quando si arrivano alle feste di Natale arriva sempre che i poveri sono aumentati, la disoccupazione aumenta, gli italiani non si possono curare perché non riescano ad accedere alle cure, però in questi cinque anni l'accesso alle cure è molto cambiato. Oggi, con l'entrata in vigore, cioè con l'entrata nel mercato dei privati o dei privati accreditati, tutto sommato fare una un'avversazione. Ma non sarà che sono aumentati i ticket e quindi purtroppo la gente si deve rivolgere per forza, no, a quel punto si deve pagare 40, 50 euro nel privato. magari non sono rendicontate tutte quante queste cose perché non sempre lo sono, non lo sappiamo, quindi può darsi che le percentuali siano rivemente diverse. C'è però da dire che l'Italia si è in crisi da tantissimi anni, questo è indubitabilmente vero perché chiunque di noi facendo un raffronto semplicemente su quello che era il proprio tenore di vita e questo purtroppo bisogna dirlo prima dell'avvento dell'euro era completamente diverso perché è un discorso semplicissimo, possiamo fare i discorsi migliori del mondo che dicono stiamo meglio, stiamo meglio, le cose sono queste, quello che guadagnavamo è stato diviso per 1936,26 si è dimezzato, quello che spendevamo è stato generalmente moltiplicato per due, il resto so chiacchiere, poi possiamo dire giusto così, stavamo andando in contrabbato, adesso ci sarebbe stato un colpo di Stato, quello che ti pare, perché non se lo ricorda il numero che ha dato lei, due, però attenzione, un'altra cosa, era il cambio lira, era il cambio lira, lira euro al momento dell'entrata in vigore della moneta europea, però c'era un'altra cosa che quando noi avevamo la via svalutata noi stavamo benissimo e tutti compravamo da noi, non è che poi io ho le mie idee, in questa sede non posso esprimere perché giustamente se no cambieremo i connotati a questa trasmissione, mi volevo riferire unicamente a un dato imparziale, se io mi devo esprimere devo proprio dire che per me l'euro, l'Europa e tutta quanto questa serie di cose sono un qualche cosa di essiziale per il nostro paese e per la posizione può darsi ma il fatto resta quindi si va indietro quindi se si va indietro comincia il dentino per esempio ma la domanda è che si pongono molti italiani un mezzo non curandolo dovrà farmelo estrarre e facendomelo estrarre dirà vabbè me ne restano tanti però non mi fa più male la domanda è che si pongono italiani però tornare indietro è possibile oppure tornare indietro cioè diciamo la medicina è peggiore della malattia tornare indietro dottor Buono non si può perché ormai siamo entrati in un meccanismo posso assolutamente essere disaccordo con quello che dice è chiaro che bisognava pensarci prima diciamo che l'Italia dà all'Europa dà all'Europa 5 miliardi di euro più euro meno all'anno ma quanti ne riceve dall'Europa mi sa molti meno è vero sì che noi italiani non siamo capaci di sfruttare i soldi che vengono i progetti perché molti sono legati ai progetti è chiaro che se lei fa uscite e entrate noi dall'Europa prendiamo meno di quanto diamo e quindi l'anti-europeista ha tutte le ragioni però io anziché tornare indietro proverei a fare proprio quello che dice lei sfruttare i fondi europei le possibilità di ricevere dall'Europa parte di quello che abbiamo dato ma scusate io fondi europei non ho capito perché ci stanno e nessuno li piglia non siamo in grado di fare dei progetti ma non sarà che questi progetti sono talmente grossi sono complicati sono complicati sono complicati cioè se tu devi fare per acchiappare del mezzo di soldi devi fare a mandare lo shutter sulla luna all'estero però lo sanno fare lo sanno fare bene lo sanno fare probabilmente c'era proviamoci proviamoci nel nostro piccolo dottor Buro bisogna lavorare come si diceva oppure sono ottimizzati attenzione oppure sono ottimizzati questi fondi per attività che vengono fatte non solo sono esclusivamente in paesi che le possono fare allora io devo dire questi soldi vengono dati a uno che parla finlandese che ha la madre da tre generazioni residente nella città di X però non vi ho detto però è aperto a tutti allora questo non è che poi vi ha gallarato vi voglio che ci fosse questa qui che i fondi europei sono talmente mirati a determinate cose che in Europa li viano e noi non li voglio ricordare vi voglio ricordare che qualche tempo fa o due o tre anni fa è stato diciamo così pizzicato un agricoltore che aveva a me pare duemila mucche e aveva preso dei fondi europei per pascolare queste duemila mucche peccato che se non ricordo male il suo terreno stava a piazza di Spagna quindi c'era qualcosa una variante ma dottor Sabretino una variante genetica di mucche che riesce a nutirsi in giacca e cravatta in giacca e cravatta non ci posso mettere non pensi sempre male ha ragione sono un cattivaggio va bene allora parlare appunto di soldi abbiamo subito salvato al trotto l'argomento di soldi soldi carenza medici carenza medici carenza dei borsi di studio la volta scorsa prima che crollasse tutte quante le utenze elettriche il nostro gestore elettrico ci lasciasse a buio e quindi attentori con le candele perché lì a quel punto sono andati via con le candele meno male che non c'abbiamo la porta elettrica infatti meno male che c'è la porta elettrica perché se c'è la porta elettrica stavamo ancora qua avevamo parlato del finanziamento della sanità e del finanziamento di 2600 borse di studio che proprio se borse di studio c'è stato il ministero che ha individuato quali sono le carenze poi ha fatto gli stanziamenti ha aggiunto gli stanziamenti e non ne ha raggiunto e non ha raggiunto non ha auto raggiunto il numero delle borse per parlare di questo qui non solo delle borse ma anche del finanziamento delle regioni avevamo intervistato Antonio Saita assessore della sanità regionale anche da assessore della sanità della regione Piemonte e coordinatore della commissione salute delle regioni e andiamo a vedere abbiamo fatto l'intervista ce l'abbiamo perché andiamo a vederla anche perché la volta scorsa è partita e dopo un po' è crollato tutto andiamo a vedere speriamo che non crolli nulla andiamo a vedere Saita Antonio Fondo Sanitario Nazionale Gimbal lancia un allarme 4 miliardi in più servono la situazione attualmente? La situazione per quello che si legge per le informazioni che abbiamo avuto per adesso non è previsto un aumento del fondo sanitario nel dibattito politico se andiamo a parlare di arreddito di cittadinanza di flat tax e altre cose ed è scomparso questo tema io devo dire che sono preoccupato perché quando si parla di sanità si parla anche di povertà si parla di garantire un servizio a chi non ha bisogno quindi ha un valore enorme dal punto di vista come dire sociale io spero che nella fase di passaggio dal DEF alla legge di bilancio sia prevista anche un aumento del fondo sanitario noi non ce la facciamo più come regioni perché ormai è un po' di anni che stiamo facendo economia a destra e a sinistra però alla fine in questi anni quello che è capitato è una riduzione del personale la sanità non è una spesa comprimibile quindi con l'andare avanti dell'età ovviamente necessita di maggiore assistenza non tanto centrale ma quanto periferica sul territorio beh è chiaro questa è la grande sfida che abbiamo tutti assieme operatori sanitari regioni cioè noi abbiamo un sistema sanitario che deve essere rimodulato in base a una domanda nuova che è quella della cronicità della popolazione anziana e non siamo sufficientemente attrezzati questo è il tema vero va fatto integrante con i servizi sociali secondo me va fatto con la presa in carico da parte del medico di medicina generale questa operazione per forza di cose richiede investimenti per quanto riguarda la medicina generale che vuol dire dotazione minima di tecnologie per dare delle risposte immediate e richiede anche io sono convinto di questo una modalità di lavoro di gruppo associato con le modalità magari senza evitando le rigidità ma che consente al paziente cronico di essere seguito attraverso la medicina iniziativa attraverso la programmazione di vita ed evitare che entri nelle visite generali in gradatore cioè il tema della via l'anziano va seguito il cronico come sapete non può essere curato va seguito e mantenuto questo richiede una forte iniziativa è un lavoro nuovo che parte voi già fate nuovo con strumenti nuovi da parte delle regioni noi e attraverso lo Stato la sanità non è una fabbrica di scarpe che può ridurre la produzione questo è logico un altro tema scottante però è la questione del pensionamento e la regola dei cento anni la NAO lancia un allarme 70.000 medici in meno solo con l'introduzione della legge voi dite 40.000 ma questa situazione non va a gravare la situazione già tanto grave di carenza ma devo dire fare alcuni provvedimenti fare immaginare alcuni provvedimenti senza verificare che cosa provoca sul sistema sanitario obiettivamente è un grande limite 25.000 medici quella quota 100 è chiaro che è un problema se si aggiunge già la mancanza di medici che è tanta alla mancanza di medici di medicina che è tanta è chiaro che la situazione diventa preoccupante per cui occorre in qualche maniera tu fai questa operazione quota 100 non voglio giudicare la bontà ma se questo determina 25.000 medici bisogna assumerli immediatamente e bisogna anche averli e programmarli bisogna anche formarli perché poi la programmazione non è fatta di un giorno porta 10 anni abbiamo lavorato sulle borse di studio ma abbiamo lavorato anche sulle borse dei medici e dei specialisti non sono state finanziate quest'anno 2.600 borse che abbiamo richiesto come regione ci mancano gli anestesisti ci mancano i pediatrici ci mancano i ginecologi in alcuni ospedali stiamo chiedendo alcuni reparti c'è un problema serio perché anche aumentare oggi come è auspicabile i corsi le borse di studio non risponde evidentemente bisogna affrontare anche l'emergenza come affronti oggi probabilmente a qualche modalità bisogna inventarla dai emergenza un ultimo tema scottante è i vaccini il governo tentenna vaccino sì vaccino no delle volte dice di sì delle volte dice no però le regioni ognuna poi prende una strada diversa a questo punto una linea unica beh una linea unica è chiaro che dovrebbe essere nazionale quando ci siamo occupati di queste cose un anno fa ogni regione stava facendo la sua regge poi tutti assieme abbiamo ritenuto di evitare questa modalità che obiettivamente a un non senso abbiamo chiesto e ottenuto una legge unica nazionale ministro Lorenzi pensavamo che si continuasse su questa strada che ha dato buoni risultati adesso si cambia per dare ascolto a una piccolissima mananza perché il 90 95 cambia da regione a regione c'è una grande copertura vaccinale per cui vuol dire questo che sta capitando indebolisce la fiducia nei confronti delle istituzioni nei confronti dei medici vaccinate e poi dice no la politica decide che non è più obbligatoria si fanno le raccomandazioni in passato c'erano raccomandazioni ma sul morbillo c'era una bassa copertura allora eccoci abbiamo visto appunto abbiamo parlato un po' tutto tondo anche abbiamo parlato anche dei vaccini insomma con la 400 questo sarà un altro argomento da dove puoi andare a valutare benissimo abbiamo lo spot dei vaccini poi andiamo da Mauro Miserendino che parliamo di formiche antibiotico resistenza e ospedali italiani durante la crescita dei nostri figli cerchiamo sempre di proteggerli con tanti piccoli gesti io vaccino facciamo i dati di questi fai la scelta giusta di cui andiamo di cui andiamo di cui andiamo Un saluto dal FICCANASO. Faccio riferimento alla paziente intubata all'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, che poi è stata riportata su Facebook, questa ripresa, ha postato un video in cui era sommessa da formiche. Tutto sommato è il caso del giorno. Un caso del giorno che fa capire lo stato di pericolosità in cui versano gli ospedali italiani. Non penso solo napoletani. Ho avuto modo, si pensi al problema, se ci sono dei baccarozzi grossi così, immaginiamo che cosa portano sopra di sé questi esseri che girano per i corridoi dell'ospedale, in termini di batteri e in termini di veicoli di infezione. Batteri che non fanno nulla, ma qualcuno che fa qualcosa c'è, aerobo. E poi ci sono anche gli anaerobi. Stiamo parlando di resistenze batteriche, che sono anche il problema del futuro insieme alle infezioni ospedaliere. Io non darò numeri sulle infezioni ospedaliere e ne darò qualcuno in termini percentuali sulla resistenza batterica, dicendo che gli ospedali italiani sono un problema. Cioè, ho sentito che sono stati sospesi medici e infermieri. Mi sembra un medico e tre infermieri. Però il concetto è, il problema è che in Italia bisognerebbe fare i conti della serva prima di giudicare e dare in pasto all'opinione pubblica dei professionisti, fare questi conti in tasca alle ASL e capire se spendono bene i loro soldi. perché sono stato a questo incontro del forum delle pulizie, delle grandi ditte di pulizie, delle associazioni di ditte delle pulizie, che si chiama Pulire, dove c'era Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, che ha dato dei dati molto aggiornati sulle antibiotico resistenze, che dicono che noi ci prendiamo tanti antibiotici, che noi praticamente a seguito dello stazionamento in ospedale rischiamo di contrarre infezioni e queste infezioni prese in ospedale sono più resistenti di quelle che prendiamo sul territorio perché c'è una fenomenologia più ampia di pazienti e qualche microbo si è preso anche lui un feedback di organismi e di antibiotici potenti e è diventato resistente agli antibiotici. E il concetto ha un suo rovescio immediato, cioè se l'ospedale non pulisce, l'infezione ospedaliera è assolutamente probabile e questa infezione ospedaliera, che ha tassi di probabilità percentuali, non per millari, va poi moltiplicata con le resistenze batteriche che adesso hanno in Italia purtroppo dei tassi percentuali, addirittura alti, cioè per decimali, nel senso che noi non abbiamo investito sufficientemente sulla pulizia, in molti casi oppressi dai deficit come ASL, come ospedali, quanto abbiamo investito per tenerci avanti come macchinari. Diciamo che abbiamo l'80% dei macchinari obsoleti, direbbe la Bocconi, però tutto sommato abbiamo un 20% che va bene. Nella pulizia questo è gravissimo, significa che se un 80% delle imprese di pulizia non vanno bene, questa non è colpa dei camici bianchi o gialli, se l'80% delle imprese di pulizia non vanno bene, tanto mi dà tanto, si tratta per i malati di fronteggiare delle infezioni che in Italia sono cresciute in alcuni casi e sono rimaste gravi in altri casi, quando invece tutto il resto d'Europa le ha diminuite, perché ad esempio lo Stafilococco aureo siano tutti al 25% di resistenza nell'infezione da Stafilococco aureo. Nel 2012, rilevazione, 5 anni dopo, tutti i paesi al nord dell'Italia sono passati, grazie ad appalti di pulizie più ragionati, principalmente a quello e grazie a una grande campagna di educazione sanitaria su quando venire in ospedale per quanto riguarda i pazienti e quando fare l'antibiotico, non farlo per l'influenza, non farlo per un virus, non farlo per il raffreddore, perché in quel modo tu lo spendi, gli fai giocare l'amichevole e poi quando invece gioca il partitone infortunato e inamichevole, non va bene e lascia via libera l'infezione. Noi lasciamo via libera al 25% delle infezioni da Stafilococco percentuale che aumenta se sono contratte in ospedale, laddove invece i paesi del centro Europa sono scesi al 10%. Ma le cose vanno ancora peggio per altre infezioni. La Klebsiella pneumonie genera resistenze ormai nel 50% dei casi. Le schericchia coli, noi abbiamo la testa del gruppo con 25-50% di resistenze contro un 10-25% degli altri paesi europei che non è bello neanche quello, insieme ai paesi del Mediterraneo, Cipro, Grecia e a qualche paese dell'est Europa. Il concetto è che noi abbiamo dato l'antibiotico per tenere a casa. Noi in Italia abbiamo evitato di fare il turno per in ospedale e forse, anzi probabilmente, abbiamo evitato di spendere tanti soldi in pulizia che in qualche modo equivarrebbero da un punto di vista a spanne, proprio razionale, a costruire un nuovo ospedale in termini di quantità di microbi che si annidano. Se io pulisco proprio bene i comodini, i cassetti, gli strumenti, faccio un controllo che mi costa anche tanto, però io lavoro in un ospedale come nuovo, non ho bisogno di costruire un ospedale nuovo. E costruire un ospedale nuovo comunque costa un po' di più che lavorare in un ospedale nuovo, ma costa meno che ristrutturare un ospedale vecchio. E quanto costano ristrutturare un ospedale vecchio senza pulirlo? Un saluto da Ficcanaso. Eccoci, ma come mai in Italia siamo sempre così indietro e al rimorchio degli altri? Noi siamo indietro nell'antibiotico resistenza e mi pare di aver capito che le altre nazioni europee si sono attrezzate probabilmente nel cercare di controllare l'infezione ospedaliere e nel cercare di non dare antibiotici ad vacca, ma come probabilmente noi abbiamo continuato a fare. In effetti in Italia un po' per l'abitudine insana di prendere l'antibiotico al primo colpo di tosse è un po' per il fatto che molta gente continua a curarsi e fa aldoprescrizione per probabilmente anche questi io sto mettendo tutti probabilmente la facilità di accesso all'acquisto del farmaco anche senza ricetta e questo purtroppo non è che lo dico solamente io. Sicuramente l'utilizzo ma ho capito ma tutti questi batteri questi batteri resistenti però non credo che comuni a causa abbiano l'antibiotico prescritto dalla signora per il mal di gola quando poi vengono usati veramente a stravaccam nelle culture degli animali anche può essere un'altra che ha detto per anche quello a quel punto lì è veramente una cosa massiva e quindi utilizzando degli animali è facile che i batteri passano da animale all'uomo insomma certo noi mangiamo carne di pollo curato con gli antibiotici carne di bovino curato con gli antibiotici perché stanno nei mangimi e quindi le forme resistenti si possono anche inserire lì però c'è anche una poca attenzione mi pare di capire nell'evitare che l'infezione ospedaliere si moltipli noi abbiamo dei germi in ospedale nella nostra regione come il corse di un difficile che è un germe che sta soltanto in ospedale mi sembra di ricordare che nel polichinico Umberto I ma in tanti altri ospedali è proprio ormai abita tranquillamente non riuscire a debellare un germe di quel genere fa sì che molti anziani entri in ospedale con una patologia e ne escono infettati si che poi effettivamente è difficilissimo da eradicare perché poi diventa un problema territoriale io assisto assisto una persona a casa che da me si è affetta da un costritum difficile e vi assicuro che è impegnativo a periodi di remissione periodi di acuzia ma bene certamente sono mesi e mesi che uno sta questo che significa che gli antibiotici che noi abbiamo a disposizione non sono così potenti da debellare il germe che evidentemente ha proposto nell'ambito del suo corredo genetico delle resistenze a questi antibiotici che quando qualche studioso internazionale aggregato che nei prossimi vent'anni se non stiamo attenti cresceranno degli anti dei germi talmente talmente potenti da creare da ritornare all'ottocento e al novecento quando c'è stata la peste e quando c'è stato il vaiolo ed è questa non è un allupo allupo probabilmente qualcosa di vero c'è però alcune nazioni europee si sono attrezzate noi probabilmente non abbiamo la forza economica o la forza decisionale per farlo ma c'è anche un'opera formativa che deve essere completata e messa bene in opera perché è notorio che l'antibiotico trova una delle motivazioni della sua forza come si dice in gergo militare nel non fare superstiti se noi diamo un antibiotico in dosi e per periodi non adeguati non facciamo altro che tra virgolette vaccinare determinati ceppi batterici che poi diventano resistenti all'antibiotico bisogna darlo o non darlo se si dà si deve dare a dosi piene e per il periodo adeguato e questo non funziona non succede addirittura ci sono dei confezionamenti che illudono che si possano fare non faccio il nome terapie in sei giorni con dosi da due grammi al giorno laddove le linee guide del sistema sanitario britannico parlano di 500 mg per tre volte al giorno per dieci giorni se non per quattordici giorni allora se noi manteniamo una forbice di questo genere sarà probabile che questo antibiotico possa essere non più efficace verso i determinati stili di batterici adesso mentre non ero inquadrato qualcuno ci dice ma guardate che il costituto difficile sta un po' obbligare certo obbligare ma negli ospedali ha trovato modo di replicarsi e di crescere pascendosi e creando difficoltà perché il costituto difficile nella popolazione normale io non so infezioni non me ne ricordo e se ce ne ricordiamo sono germi sono germi non attrezzati a resistere quindi gli ospedalieri sono un po' più complessi quindi forse probabilmente qualche decisore dovrà prendere atto di questa cosa qui e cercare di trovare dei correttivi quello ad esempio di mettere ogni dieci metri in ospedale la macchinetta per lavare le mani si è sicuramente evitato la distribuzione di tantissime infezioni però probabilmente bisogna fare qualcosa di più 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 fattivo di più di più fattivo di più fattivo bene il muggito della bufala. Questa settimana era la bufala della scorsa settimana, ma tanto una bufala della scorsa settimana, questa settimana vale lo stesso, anche perché la bufala sbufala, noi ci scherziamo purtroppo. Sì, però informiamo i telespettatori, stiamo parlando di bufala in senso metaforico, non vorrei che qualcuno credesse che la mozzarella di bufala va bene dopo una settimana, la mozzarella di bufala va consumata in pochissimo tempo. Mi raccomando, mai! Mai, mai messa in frigorifero, sigla! Ecco, ecco, il tuo turmone ogni volta non sento che sto sigla, mi schiatta... non sembra veramente fatto il culo. Ma non senti qui! Ma non l'ha fatta nessuna, non l'ha mp3 preso dalla rete, non è un prerrovo. Bufala, andiamo a vedere la prima sbufalata. Dove sta? l'artemisia, questa erba uccide il 98% del tumore, il sole 16 ore, ma nessuno ne parla questa è la classica bufola che purtroppo gira che sono le comunicazioni dalla regia, ho capito che si usa l'aria, però devo dire una cosa che quella lì esattamente, queste sono le classiche bufale che purtroppo vengono diffuse parlando di malattie senza sapere... no 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 parlando purtroppo no la realtà è triste parlando di malattie come i tumori che hanno una precisa un preciso protocollo ora diffondere una cosa del genere cioè l'artemisia questa erba uccide il 98 per cento dei tumori in meno di 16 ore ma lo sa e purtroppo il secondo paradigma è il fatto che gli stessi che le mettono in giro dicono queste cose non si vengono a sapere perché l'industria del farmaco ha le cure per il tumore ma le nasconde e quindi non è che si pericolo di scoprire se la prima parte della notizia è una fesseria o no gli interessa molto di più dire questa parte è vera senza informarsi perché la seconda parte ci nascondono delle cose perché c'è sempre la teoria del gomblottone del gomblottone e poi abbiamo un'altra ancora perché va girando ne abbiamo un'altra ancora che è sempre purtroppo rivolta a proprio della stessa categoria scienziati scoprono che l'oro di cocco è lì 99 per cento del tanto al colore non si può non si può non si può non si può però non si può più la città è una bufala un miracolo se effettivamente è la pillolina che sapete perché perché proprio così sa che di piazza ma il capara fa ma non è proprio più e quindi il gomblotto c'è stiamo scherzando Questi qui sono due esempi di bufala che purtroppo circolano e illudono chi ha una patologia e delle volte succede come agli estremi che poi si allontano dalle cure ufficiali per rivolgersi a questi cialtroni che scrivono queste cose. E non andiamo troppo lontano perché la quotidianità televisiva è piena di questa gente che fa certe cose. Allora, noi abbiamo finito. Io vi ricordo sempre che domattina alle 10 i servizi sintonizzati su Fingiasso TV ci collegheremo in diretta con il salone dell'hotel Plaza a Via del Corso dove ci saranno i festeggiamenti dei 40 anni del Servizio Sanitario Nazionale. Ci saranno due tavole rotonde e una presentazione. Addirittura ci sarà Muccino, il conduttore di Rai 1, il giornalista di Rai 1. E poi, oltretutto, ci saranno anche tavole rotonde presenti, il ministro Noreoli, eccetera, eccetera. Quindi si spera anche che il ministro della salute non penso che venga perché è diventata mamma da qualche giorno. Vediamo se riusciamo a strappare qualche comunicazione da qualcuno di loro. Vediamo poi se potremo realizzare qualche intervista. Ci consentiranno di fare qualche intervista. Sicuramente ci consentiranno, vediamo poi, visto che poi avremo questa esclusiva della diretta. Io vi ringrazio infinitamente e vi ricordo la replica che andrà in onda dopo la nostra trasmissione. La nostra pagina Facebook di Fingiasso TV che è sui social. e poi il numero di telefono è 335-386-082 per contattare la nostra direzione e per contattare noi. Io vi ringrazio infinitamente. Vi ho sempre appuntamento domattina. Un cordiale saluto, dottor Sabatino. Mi associo ai saluti del dottor Piero che ha già detto tutto e speriamo di rincontrarci qui tutti insieme la settimana prossima. Sicuramente, se gli vuoi. Saluti cari a tutti, scusate l'intemperanza di poco fa, però un suggerimento. Magari facciamo un pochino più sobrio perché io, anche se sarà la terza, quarta volta che la vedo, quella sigla, quando vedo l'onomatopea non riesco a trattenerla. Comunque, buona serata a tutti e a presto. Buonanotte a tutti, alla settimana prossima. Buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti.